benissimo ben trovati abbiamo pensato con patrizia e madre teresa zamba di continuare queste lezioni visto che non possiamo vederci di persona sono io che arriverò da voi in modo da poter continuare insieme questo percorso sull'ottocento come state spero bene e sono contentissima di essere qui a raccontarvi ancora questo meraviglioso secolo spero vediate bene questo modo che ho trovato io di farvi vedere sia il mio volto farvi sentire la mia voce anche vedere le immagini e riprendiamo riprendiamo dall'ottocento e dove eravamo rimasti eravamo rimasti alle grandi rivoluzioni ai grandi cambiamenti dell'ottocento ai grandi movimenti dell'ottocento l'impressionismo il realismo i primi rivoluzionari che abbiamo analizzato e studiato come Henri de Toulouse-Lautrec come Klimt e oggi andiamo avanti andiamo avanti in realtà tornando indietro perché il primo artista che voglio raccontarvi oggi è Francisco Goya Francisco Goya in realtà è stato un artista che ha realizzato opere e si è espresso nella sua arte all'inizio dell'ottocento tra la fine del settecento all'inizio dell'ottocento muore infatti nel 1822 in Spagna un pittore meraviglioso spagnolo e rivoluzionario poi ci addentreremo nei grandi geni e negli altri rivoluzionari della fine dell'ottocento che sono Vincent van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne e poi vedremo l'Italia unita cosa accade nell'ottocento dopo il risorgimento con l'Italia unita Francisco Goya come vi ho detto nasce nel 1746 e mora nel 1828-1922 in Spagna e ha una doppia vita possiamo dire perché lui è stato sia un artista di corte quindi ha lavorato per i reali spagnoli ma poi soprattutto fu rivoluzionario per questi due per queste due creazioni che sono i capricci e i disastri della guerra. I capricci sono 80 tavole acquetinte e acqueforte che adesso si trovano al Museo del Prado a Madrid in cui lui racconta la sua società, sono incisioni in cui lui racconta la società spagnola all'epoca e i disastri della guerra, los desastres della guerra sono 82 incisioni sempre che sono state poste adesso al Museo del Prado di Madrid in cui lui racconta la guerra, l'orribile guerra spagnola sotto le truppe di Napoleone. In queste opere Goya è un reporter, vi ho raccontato l'altra volta del reportage sociale di Henri de Toulouse-Lautrec nella Francia, nella Parigi della fine dell'Ottocento, ecco già un secolo prima Goya aveva anticipato tutte queste rivoluzioni dell'Ottocento e raccontava con opere che furono censurate dall'inquisizione la realtà dell'ignoranza, della violenza, della guerra, della cultura, dell'assenza di cultura dell'epoca famosa, l'incisione realizzata da lui, il sonno della ragione genera mostri, quindi se non sia cultura, se non sia conoscenza, la mente crea i nostri, quindi crea l'orrore, crea la bruttezza della guerra e anche della guerra interiore, della guerra sociale, non solo la guerra battaglia conosciuta mondialmente. Vi ho portato un'incisione in particolare perché vi farò notare come Goya racconta la donna, in questo caso un'incisione del disastro della guerra a 1810 circa che si chiama Sono belve inferocite, in questa immagine Goya rappresenta le donne che difendono i propri figli, i propri mariti contro le truppe napoleoniche, guardate questo soldato sulla destra con questa posa così forte, così netta, così rigida che verrà ripresa, pensate da Picasso, ad esempio nel suo massacro in Corea, Picasso studierà tantissimo l'iconografia di Francisco Goya, suo conterraneo di un secolo prima. Queste donne quindi feroci, rivoluzionarie, forti, muscolose, contadine e che si impongono nella società, nella vita e che si ribellano, si ribellano a differenti violenze perché era pratica quotidiana lo stupro, la violenza sul femminile, sulle donne all'epoca, anche perpetuate dalle truppe napoleoniche. Però Goya è famoso forse più per queste opere che sono le sue maglie, la maglia vestida e la maglia desnuda. Donne sensualissime per un luogo privato, furono delle commissioni private, quindi all'epoca in camera, in casa si richiedevano queste bellissime rappresentazioni femminili molto erotiche, molto sensuali. Sembra quasi più erotica quella vestida in realtà, perché è un vestito talmente leggero, trasparente, stretto alla vita proprio che sottolinea le forme. Però è interessante vedere come Goya anche in un soggetto così tradizionale del nudo sdraiato riesca a imporre un elemento più forte, più vigoroso della donna. Vedete che la posizione non è orizzontale, del tutto orizzontale, non è del tutto lontana e distaccata dallo spettatore, ma è leggermente alzata. Guarda lo spettatore con forza, come abbiamo visto nell'Olimpia di Manet e guardate che qua siamo all'inizio dell'Ottocento. Goya infatti è quell'artista che ho lasciato adesso proprio per farvi capire come aveva in realtà già anticipato quasi tutta l'arte dell'Ottocento, un secolo prima di tutti gli altri. Quindi era stato un reporter, era stato pittore di corte, era stato rivoluzionario nell'immaginario femminile, era stato un artista intellettuale che aveva denunciato la società in cui viveva, nonostante fosse pittore del potere, pittore della corte. E quest'opera interessante, il mio professore all'università diceva che in realtà dovete immaginarle come le lavagne dell'università, che sono realizzate a doppio strato, no? E quindi una sopra l'altra. Quando c'era il pubblico, quando c'erano gli ospiti, in queste case dei commettenti, si teneva la magna vestida. Nel momento in cui gli ospiti se ne andavano, si apriva la lavagna e usciva fuori la desnuda proprio per un piacere privato, possiamo dire. Però è una donna più potente, più sicura di sé, più forte quella di Goya, anche nella posizione che la donna rappresentata ha in questo dipinto, in questa famosissima rappresentazione. Queste due opere sempre si trovano al Museo del Prado di Madrid. Però Goya fu importante perché in pittura raccontò anche una piaga sociale, che era la prostituzione. Nella maia e Celestina al balcone, ad esempio, si vede una signora anziana dietro che snocciola il suo rosario, molto soddisfatta di quello che sta realizzando, perché in realtà è una nonna che sta vendendo la nipote, perché all'epoca di guerra e di povertà si portavano le giovani donne di famiglia a esporsi sul balcone, la maia al balcone, per essere venduta, per il corpo venduto, come le vetrine di Amsterdam oggi in realtà. La prostituzione e la violenza sul femminile era una piaga sociale fortissima all'epoca, che Goya raccontò in tutte le sue incisioni e come vedete qui, anche in questi suoi dipinti, ancora più famoso, le maie al balcone, 1808-1814. Due donne, due maie al balcone che sono esposte, proprio come in vetrina, i volti come vedete sono quasi mascherati, quasi fissi, e dietro di loro questi due omoni che fanno quasi paura, cupi, senza volto, con la mascherina, in realtà con la maschera. Percepiamo un po' gli occhi, ma che sono comunque terrificanti, terribili, e racconta quest'opera in maniera molto chiara per l'epoca, la violenza sul femminile di uomini, di uomini anche benestanti, che sfruttavano i magnacci, insomma, quelli che oggi vengono chiamati magnacci, gli sfruttatori della prostituzione. E non a caso queste opere furono molto amate da Manet, e ritorniamo alla nostra epoca, dove ce l'avamo lasciati l'altra volta. Vi avevo detto che Manet, dopo l'Olimpia e dopo la colazione sull'erba, entra in crisi, ha un esaurimento nervoso fortissimo, perché viene talmente tanto criticato da volersene scappare, e se ne va proprio a Madrid, Spagna, dove si innamorerà di nuovo della pittura. Scrive infatti a Zola e a Baudelaire, qui in Spagna ho ritrovato la vera pittura, la vera pittura che è la pittura di Velázquez per lui, ma anche di Francisco Goya. E infatti questo è quello che accade, vede queste opere, questa opere in particolare di Francisco Goya, e la riproduce, la cita, la cita in questo suo capolavoro, che sono le maias al balcone, quindi proprio una chiara citazione al maestro spagnolo, 1868-1869, e Manet anche qui fa la fotografia della sua epoca. Qui rappresenta queste due giovani donne al balcone, che guardano sconsolatissime verso la strada, verso dove siamo noi. Con volti che sembrano maschere, sono quasi indefiniti, guardate questa donna sulla destra, sembra completamente isolata, persa, triste, e tristissima anche la donna sulla sinistra. Sono in vetrina, sono bellissime, vestite benissimo, con l'ombrellino che sappiate che all'epoca, nella Parigi della Belle Epoque, quindi nella fine dell'Ottocento, erano proprio simbolo della prostituzione, delle prostitute. Dietro di loro due uomini benestanti, due borghesi, che hanno anche un atteggiamento molto vigoroso, molto sicuro di loro stessi, e osservano anche loro verso la strada, sicuri di controllare, insomma, come è la situazione, se queste due donne, insomma, si comportano bene nel loro ruolo sociale. Ovviamente per l'epoca quest'opera era chiaramente riconoscibile e comprensibile. All'epoca chi guardava quest'opera comprendeva cosa voleva dire Manet, cosa voleva raccontare Manet, e anche gli appassionati d'arti riconoscevano in quest'opera l'opera di Goia, che aveva chiaramente un significato sociale e di denuncia sociale della prostituzione femminile e della violenza maschile sul femminile, sulla donna, il corpo della donna mercificato, proprio messo in vetrina, messo sul balcone, ad aspettare, ad attendere che qualcuno si accorgesse di loro per poterci guadagnare. Manet, quindi, ritorna in realtà dalla Spagna e continua la sua denuncia sociale. Forse l'ha forzato, nonostante le critiche che aveva avuto all'epoca il suo esaurimento nervoso, ritorna nella Parigi della Belle Epoque, quella che vi ho raccontato l'altra volta, nella Parigi sfavillante, di depressione frenetica, e ritorna ancora più sicuro che il suo ruolo è quello di raccontare la società, ancora più sicuro che dopo la déjeuner sull'erba, dopo la colazione sull'erba, e dopo l'Olimpia lui vuole raccontare la società borghese, la società aristocratica, con la sua bruttezza, con quello che non si vuole far sapere, ma che in realtà è. E quindi Manet cita il grandissimo Francisco Goia, che ormai 70 anni prima, più di 70 anni prima, nella Spagna dilaniata dalla guerra napoleonica, dilaniata da una cultura, dall'inquisizione, dalla religione opprimente, dilaniata dalla cultura appunto assente, dall'ignoranza dei potenti, che lui racconta benissimo in tutte le sue incisioni, anche in pittura aveva raccontato questa realtà, per chi sapeva capirla e riconoscerla. E Manet, che si sente un realista sociale, un narratore della borghesia dell'epoca, della realtà dell'epoca, cita Goia per vivere, per far rivivere quella potenza sociale anche di innovazione, di rifiuto di certe realtà sociali e le riporta nella Parigi, nella sua Parigi dell'epoca. Quindi in realtà se n'era andato dopo l'esaurimento per le critiche fortissime, ma appoggiato dai suoi due amici e grandissimi intellettuali dell'epoca, Charles Baudelaire e Emile Zola, ritorna e pensa che il suo ruolo è sempre ancora quello, è quello di raccontare alla società, alla società borghese, l'aristocrazia, quella che in realtà era, ovvero uomini soprattutto che sfruttava la bellezza e anche la debolezza all'epoca del femminile e che quindi forse questa emancipazione femminile non era così reale come i locali, il cancani, il teatro, l'alcol, volevano far credere. La donna era sulla via dell'emancipazione ma era ancora maggiormente, fortemente sfruttata e quindi Manet ritorna proprio a raccontare la verità della sua epoca. Nel 1853 nasce Vincent van Gogh, quindi siamo sempre alla metà dell'Ottocento. L'altra volta vi ho lasciato con i primi due rivoluzionari, vi ho detto che alla fine dell'Ottocento ci sono cinque grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec a Parigi, il primo reporter, le case chiuse, le prostitute e i manifesti pubblicitari, Gustave Klimt, il primo pittore della bellezza e dell'erotismo femminile, Vincent van Gogh che faremo oggi, Paul Gauguin che faremo oggi e Paul Cézanne. Questi altri tre artisti sono rivoluzionali perché aprono fondamentalmente le porte alle vanguardie storiche, alle prime vanguardie storiche e quindi al Novecento. Vincent van Gogh sarà l'artista che ispirerà l'espressionismo, ispirerà quella pittura forte dell'inizio del Novecento che viene toccata dai pensieri di Sigmund Freud, della psicanalisi e che dà tutto il potere, darà tutto il potere al colore. L'espressionismo dell'inizio del Novecento sarà quello realizzato da Edvard Munch, pensate al suo urlo, o agli artisti Fauve come Henri Matisse in Francia, Fauve vuol dire bestie, proprio perché dei critici guardando le loro opere la prima volta dissero chi è che dipinge così come delle bestie. I Fauve erano gli artisti dell'inizio del Novecento che rappresentavano la realtà vivida di colore, oppure di Bruche, che vuol dire il ponte in tedesco, che sono gli artisti espressionisti in Germania, come ad esempio Kirchner, con colori più cupi, scene più di strada, più underground e quindi l'espressionismo sarà una delle vanguardie storiche. Ci sarà l'espressionismo, ci sarà il cubismo, ci sarà l'astrattismo, il surrealismo, il dadaismo, tutte le prime vanguardie storiche che nascono per reagire alla nascita della fotografia. Perché in questi anni sta nascendo la fotografia e non solo, nascerà anche il cinema all'inizio del Novecento e quindi l'arte deve trovare un nuovo senso di sé. Questo discorso lo faccio spesso. Ci sono due crisi nella storia dell'arte. Il manierismo, dopo Michelangelo, Raffaello e Leonardo. Gli alunni, gli allievi di questi grandi geni si sentono niente in confronto a loro. C'è la crisi sociale, c'è la crisi religiosa, la riforma protestante, la controriforma. Si perde il punto di fuga, crolla l'arte per cent'anni. Nasce il manierismo che cerca in qualche modo di arrancare, di raccontare e ritrovare un nuovo stile dopo l'apice assurdo e meraviglioso del rinascimento italiano. La seconda crisi della storia dell'arte avviene in questi anni. Avviene in questi anni, avviene nell'Ottocento. Pensate quante cose succedono in questo secolo. Questo è il motivo per cui lo amo particolarmente e credo che sia uno dei secoli con il rinascimento, quindi col 400 più importanti della storia dell'arte mondiale e il 500. Cosa accade qui? Con la nascita della fotografia, vi l'ho detto, la fotografia nasce, il primo fotografo è Nadar, che sarà amico degli impressionisti e la prima mostra degli impressionisti avviene nel 1874 a Parigi, nello studio di Nadar, quindi nello studio di un fotografo, del primo fotografo. Gli artisti devono trovare un nuovo senso, un nuovo senso. L'arte deve trovare un nuovo senso, perché l'arte sin dalla pre-storia, sin dalle grotte di Lascaux, ha sempre cercato di raccontare il reale e il vero simile e invece a questo punto l'arte deve fare altro, perché ormai per il reale e per il vero simile c'è la fotografia. C'è la fotografia, c'è la fotografia che prende il reale in maniera precisissima, è quasi una magia e quindi l'arte deve raccontare altro, deve creare una nuova realtà. Vincent van Gogh sarà veramente il primo, il primo artista che capirà che l'arte deve andare oltre, non solo oltre come diceva Manet, quindi quello oltre da disturbare, ma a ricerca del disturbare lo spettatore dal punto di vista sociale, racconto sociale. Per Van Gogh l'arte deve andare oltre proprio dal punto di vista visivo, estetico e concettuale. La prima opera che vi ho portato è Il Mangiatore di Patate, questo è sbagliato perché avevo fatto un parallelismo perché Annibale Carracci alla fine del Cinquecento aveva realizzato Il Mangiafagioli, a cui si ispira il nostro Vincent van Gogh. Vincent van Gogh realizza, nel 1885 circa, Il Mangiatore di Patate, proprio ispirandosi a Carracci con Il Mangiafagioli. Sono contadini che mangiano affamati, stanchissimi, con le mani deformate dal lavoro. In questa scena cupa, in questa realtà quasi surreale, questa lampada, guardatela bene perché Pablo Picasso la noterà per realizzare poi la sua guernica. È la scena rurale, una scena di contadini, il luogo sociale che Van Gogh amerà di più, ma soprattutto Van Gogh sarà capace di raccontare il colore. Van Gogh, se vedeva un cielo nero, se sentiva un cielo nero, lo faceva nero. Se sentiva il mare rosa, lo faceva rosa. Se sentiva che i girasoli creavano intorno a loro tutta una realtà gialla, allora tutto doveva diventare giallo. I girasoli di Van Gogh, ci sono diversissime versioni, ne ha fatti tantissimi, perché lui amava tanto il giallo e lo vedeva proprio come il colore dell'energia, anche della follia. In queste immagini vedete che è tutto giallo. Il muretto dove si trova il vaso è giallo, il vaso è giallo, la parete è gialla, i girasoli sono gialli. È un'energia di calore, di vigore. Van Gogh rappresentava sulla tela il colore che lui sentiva. E quindi Van Gogh capisce che l'arte non deve più rappresentare la realtà per come è, ma per come la si sente. E quindi Van Gogh capisce che nell'epoca in cui sta nascendo la fotografia, l'artista diventa il centro, diventa il fulcro, diventa divino quanto Dio, perché deve creare una nuova arte, deve creare un nuovo modo anche di rappresentare l'arte. E quindi Van Gogh realizza la sua verità, quello che lui sente. Vendrà solo un quadro in tutta la sua vita. Grazie al fratello, il fratello Theo era un mercante d'arte. Lo appoggerà per tutta la vita, famosissima il racconto epistolare dei due fratelli. Van Gogh era un uomo molto colto, un letterato, uno studioso. Nessuno mai l'avrebbe mai pensato, ma è stato scoperto dalla cognata proprio alla morte di Van Gogh e anche alla morte del fratello, perché il fratello morirà, la morte del fratello avverrà due mesi dopo della morte di Van Gogh. Quindi era proprio un legame strettissimo, fortissimo di sangue, ma anche emotivo. Si scrissero per tutta la vita i due fratelli e Van Gogh spiegava la sua arte in maniera molto acculturata, molto profonda, molto intellettuale. E questo non lo pensava nessuno, anzi tutti dicevano che le sue opere facevano schifo, erano proprio orride, perché vedevano la mancanza di accademia, la mancanza di disegno, la mancanza di eleganza, non vedevano niente di realistico, ma per lui la realtà non aveva più senso, non doveva più essere reale, non doveva essere più raccontata per come si vedeva. L'arte doveva essere un passimo per l'anima, per lui divenne quasi catartica l'arte, lui riuscì veramente a esprimersi attraverso le sue realizzazioni. Forse una delle più famose, bellissime, che bello vedere la mia faccia vicino a quest'opera, che è La notte stellata, siamo nel 1888. Van Gogh, allora avete visto prima le date di nascita e morte, nasce nel 1853, muore nel 1890, 1889 in realtà, ma noi abbiamo opere sue dal 1884, in realtà pochissimi anni di attività di pittore abbiamo di Van Gogh, perché Van Gogh era un ragazzino complicato, complesso, non riusciva a trovare la sua strada, con problemi psichici già da piccolo, che però la famiglia non notò, non riusciva a portare a termine niente di quello che iniziava, se non l'arte. L'arte divenne, ma anche tardi, non subito, divenne quasi una sua ossessione, una sua passione, un suo amore esagerato, estremo, ma gradualmente. Iniziò gradualmente, copiando, anche ispirandosi all'arte dell'epoca, ma poi in pochissimi anni riuscì subito a trovare il suo stile. E quindi possiamo dire che veramente il Van Gogh che conosciamo noi, il famoso Van Gogh, è dal 1885, e se pensate che muore nel 1889 sono veramente 3-4 anni. E questa è una delle opere più famose, più belle, un anno prima della sua morte, siamo nel 1888 e La Notte Stellata. La Notte Stellata che è il cinema, secondo me quest'opera è il cinema, è la previsione anche del cinema. Lui sarà profeta di tutto, Van Gogh nell'arte, di vita, di morte, di rivoluzione. C'è il cielo che si muove, le stelle che si muovono, la luna che si muove, il cipresso che si muove al vento, la cittadina vista dall'alto. Questa era la natura che lui vedeva dalla finestra di casa sua, negli anni proprio in cui faceva avanti e indietro fondamentalmente dalla clinica dove era rinchiuso per malattie mentali, insomma. Ed si percepisce in quest'opera tutta la sua rivoluzione. Morì, un anno dopo compresero la sua genialità, compresero il suo messaggio. Dopo una vita di stenti, il fratello si occupava economicamente di lui perché lui non riusciva a sopravvivere con l'arte. Vivevano in quella parigi l'isterica che le persone sensibili toccava ancora di più, quella parigi distrusse le persone troppo sensibili. Van Gogh aveva problemi psichici ma alimentati anche da droghe, alcol, sostanze stupefacenti, la bevanda, la fata verde dell'epoca, un fegato distrutto, amicizie che vivivano nello stesso modo. Paul Gauguin visse con lui nello stesso modo, visse questa follia dell'epoca che però faceva alterare tutte le loro vite, la loro visione del reale, della realtà. Però lui fu il vero rivoluzionario, il primo vero rivoluzionario, il primo grande genio della fine dell'Ottocento e dal mio punto di vista, forse, tra i pittori più importanti di tutta la storia dell'arte, in assoluto, perché capì, percepì prima di tutti con la sua sensibilità dove l'arte doveva andare per sopravvivere. Morì lui ma fece sopravvivere l'arte. Amico suo sarà Paul Gauguin. Paul Gauguin, anche lui francese, perché l'ho messo tra i rivoluzionari, perché lui sarà il primo francese europeista, occidentale, che inizierà a narrare altre culture, in questo caso quella taitiana, dallo stesso livello, non più da colonialista, ma sullo stesso livello. Anche Gauguin, segno dei gemelli, aveva questa sensibilità abbastanza doppia e questa realtà doppia, si sentiva europeista, ma si sentiva anche cittadino del mondo, si sentiva cristiano, ma si sentiva anche animista e appassionato a tutte le religioni e le culture del mondo. Partì da Parigi e se ne andò in Bretagna perché voleva la natura, se ne scappò anche dalla Bretagna, andò ad Arles con Van Gogh, dove avvenne il famoso fattaccio dell'orecchio tagliato, perché una sera, dopo una notte di bagordi nel postribolo tra prostitute locali, Gauguin dice a Van Gogh, io me ne andrò, non rimango più qui, Van Gogh dal dolore si taglia un orecchio e si addormente. Il giorno dopo lo ritrovano in quel modo pensando fosse morto, invece no, stava dormendo tranquillamente, però con tutto quel sangue ovviamente vicino. Visto questo, Gauguin, che l'aveva lasciato così, quindi arrivò al mattino e lo in questo modo, si spaventò e decide bene di andarsene, scappò veramente, definitivamente, e Van Gogh si tagliò una parte di sé, proprio come dire, se tu te ne vai, io perdo una parte di me, perché si pensa forse anche che Van Gogh si fosse in parte troppo legato, quasi innamorato a Gauguin. Gauguin se ne andò anche da Arles e partì per Tahiti. Tahiti, un'isola, un mondo completamente diverso, lontano, veramente esotico, un mondo che però i francesi dell'epoca avevano sempre raccontato come l'Africa o come l'Oriente, insomma, un luogo da colonizzare e quindi culture alti, inferiori, donne da sfruttare sessualmente. Invece Gauguin va in questa realtà, si innamora di questa cultura, entra in contatto reale, convive con queste persone e racconta le donne, ad esempio, Tahitiane, con un grandissimo rispetto, vestite, paradossalmente, perché all'epoca le donne di altre culture erano spesso nude, proprio perché erano l'emblema della prostituzione, no? Pensate all'Udaliska di Angre, al bagno turco di Angre, che erano tutte donne, insomma, con elementi esotici per giustificare la nudità. Lui racconta queste donne, racconta questa cultura d'antropologo. Quindi io l'ho messo tra i cinque rivoluzionari della fine dell'Ottocento, proprio perché fu il primo artista antropologo, fu il primo artista a raccontare un'altra cultura in maniera sociale, di studio sociale, non da europeista, non da filo occidentale, ma da uomo, da essere umano, sentendosi allo stesso livello di un'altra cultura da cui dover, in qualche modo, apprendere. Sono bellissime, famosissime le sue opere, questi colori caldi, luminosi, questa tecnica piatta, in realtà, un colore piatto, ovviamente diverso dalla pennellata tridimensionale carnale di Vincent van Gogh. Sarà rivoluzionario, secondo me, Paul Gauguin dal punto di vista proprio sociale. Un artista intellettuale che ha un ruolo sociale, tanto che divenne in realtà anche giornalista perché scrisse un diario di viaggio quotidiano proprio dei suoi studi antropologici della sua vita a Tahiti. E quindi, come vedete, anche le vite iniziano a diventare diverse. La vita del fine dell'Ottocento, degli artisti al fine dell'Ottocento diventano stranissime, rivoluzionari. L'Ottocento, nobile, che va a vivere in una casa chiusa. Van Gogh, che vive in una casa, in una clinica, in un carcere, pensate alla Ronda dei Carcerati, che è una delle sue opere più famose, in cui si rappresenta, che cerca di uscire da quel cerchio, il circolo vizioso. Quindi un folle che crea un nuovo modo di fare arte che nessuno aveva fatto prima e che nessuno al momento riusciva a capire. Gauguin, che fa l'antropologo, fa l'artista antropologo. E poi lui? Paul Cézanne. Paul Cézanne è forse l'artista più difficile di tutta l'artista dell'arte. Paul Cézanne è quell'artista che ha anticipato quello che sarà il cubismo. Quindi è l'artista che anticipa un'avanguardia storica, un'avanguardia storica dell'inizio del Novecento, che è il cubismo. Chi ha fatto nascere il cubismo? Pablo Picasso o George Braque? Nessuno dei due, la grande diatriba. Vi rispondo io, non sarà nessuno dei due, sarà Paul Cézanne. Perché Paul Cézanne in realtà sarà il primo precubista. Come io gli ho detto, Van Gogh sarà il primo pre-espressionista. Questi artisti nella storia dell'arte vengono chiamati post-impressionisti. Quindi nei manuali di storia dell'arte, se cercate Van Gogh, Cézanne, Gauguin, vengono messi nel capitolo dei post-impressionisti. Cioè quegli artisti che nascono anche dall'impressionismo perché Cézanne nascerà come impressionista, ma poi si distaccano totalmente dal concetto, dall'ideologia degli impressionisti. I post-impressionisti, secondo me, c'è un modo per chiamare ogni artista. Perché ognuno di questi artisti ha anticipato un'epoca, un movimento artistico. Come vi ho detto, il post-impressionista Vincent Van Gogh sarà in realtà un pre-espressionista. Il post-impressionista Paul Cézanne sarà in realtà il primo cubista, un precubista. Come spiegare Cézanne? Allora, Cézanne nasce come impressionista perché lui guarda le opere degli impressionisti. Pensate a Monet, pensate a tutte le cattedrali di Rouen rappresentate a Monet, a tutte le ninfe di Monet. Gli impressionisti erano attenti a come rappresentare la realtà nelle diverse ore del giorno, con la diversa luce, con la diversa situazione atmosferica. Paul Cézanne non fece questo. Lui ad esempio rappresentò alcuni soggetti centinaia di volte. Sono centinaia i suoi Mont Saint-Victoire. Lui rappresentò per anni il monte che vedeva di fronte a casa sua, che era proprio il Mont Saint-Victoire. Infatti di queste opere ne abbiamo tantissime. Rappresentò centinaia di grandi bagnanti, un soggetto tradizionale, erotico, che però lui ripresentò e ricreò in maniera assolutamente innovativa, assolutamente rivoluzionaria, avanguardistica, pre-avanguardistica. E qual è la differenza? Perché in realtà gli impressionisti osservavano la realtà e cercavano di rappresentarla e di raccontarla visivamente da un punto di vista puramente estetico. Cioè come la cattedrale di Rouen cambia alle 5, alle 6, alle 8, alle 12, alle 14, alle 20 della giornata? Come cambia la luce? Come cambia l'aria? Come cambia la nebbia? Come cambia l'acqua, ok? Per Cézanne lui era interessato a studiare lo scheletro dell'opera, dell'oggetto, dell'opera che lui stava osservando. Pensate a un setaccio, lui entrava nella realtà, scuoteva questo setaccio e quello che rimaneva per lui era l'essenza. Quindi lui osservava di giorno in giorno quell'oggetto, quella realtà, quel soggetto, ma in realtà gli interessava come cambiava come cambiava in realtà la sua percezione, la sua realtà, il suo modo di essere, di sentire quella realtà osservando il reale. Quindi era il primo forse pittore concettuale, Paul Cézanne. Non rappresentava la realtà per come la sentiva, come Van Gogh, ma lui era un intellettuale. Lui studiava lo scheletro, la geometria della realtà, che non era sempre la stessa, perché come vedete questo è un altro Mont Saint-Victoire, realizzato in maniera forse ancora più astratta, oggi diremmo astratta, ancora più irreale. La figura sembra completamente dissolversi. Ci sono tantissimi Mont Saint-Victoire realizzati da Cézanne. Ci sono tantissime riproduzioni di questo oggetto, ma Cézanne non è interessato a rappresentare il soggetto come cambia nella natura, nell'atmosfera, ma come cambia dai suoi occhi. Come la vita, la vita, la vita, la vita nei suoi occhi cambia guardando quell'opera d'arte, quell'oggetto. Quell'oggetto, quella realtà che per lui diventa un'opera d'arte e soprattutto diventa un'opera d'essenza, un soggetto della realtà da studiare, da comprendere. E Paul Cézanne studierà la realtà come in realtà un filosofo, tanto che è l'artista meno compreso forse, ma più studiato dai filosofi. Nel Novecento sarà studiato da Marleau Punti, da Barthes, da diversi filosofi contemporanei, perché è il primo artista che approccia la realtà come geometria e quindi alla ricerca del suo scheletro, della sua verità, di quello che è la struttura e non dell'estetica. Quindi possiamo dire che questa è la più grande differenza fra gli impressionisti e Cézanne. Gli impressionisti guardano l'estetica del reale, come la realtà cambia e come si percepisce diversamente. Per Cézanne è importante studiare come la realtà cambia nella sua essenza, qual è il centro, il cuore, lo scheletro della realtà, nella sua anche geometria, quindi rendendola il più semplice, essenziale possibile. E questo lo vediamo anche nelle sue bagnanti, ad esempio, vedete? Le grandi bagnanti. Ha realizzato tantissime bagnanti. Vedete che un oggetto così erotico, così sensuale generalmente, qui diventano in realtà linee, geometrie, studi di linee, di diagonali. Il corpo femminile erotico sparisce, sono immagini rosa, ma non c'è assolutamente l'erotismo, la sensualità. Anche questa, ad esempio, forse è una delle sue ultime bagnanti, 1906, le grandi bagnanti. Cézanne morirà proprio nel 1906, anno in cui sarà realizzata una prospettiva tutta lui dedicata. Però su Cézanne ci torniamo. Adesso torniamo invece un attimo in Italia, perché in Italia si va, l'Italia è unita e gli artisti si dividono fra verismo e naturalismo. In Italia si racconta finalmente la realtà. Ma questo era stato fatto in tutto l'Ottocento in Italia. I grandi pittori del risorgimento, inganni, gli fratelli Induno. Si cercava in tutti i modi di raccontare la realtà dei Garibaldini, ma non solo quella vigorosa, storica, ma quella delle famiglie, quella dei poveri, del paese, di quello che rimaneva, del quarto stato, di quei lavoratori, di quei soggetti che erano stati sempre in qualche modo taciuti dalla storia e dalla storia dell'arte. Vi ho portato delle immagini simbolo. La lettrice di Faruffini, che si trova alla GAM di Milano, che è qualcosa di fenomenale. È una donna che fuma e legge da sola. Fumare era un elemento tipicamente maschile e nell'Ottocento diventa femminile, simbolo anche di emancipazione femminile. La donna sta leggendo a casa sua e legge, ma il dettaglio più interessante di quest'opera è che non legge solo un libro, ne ha tanti sulla sua scrivania. Quindi una donna di cultura, di tanta cultura, non è in posa leggere, perché generalmente le donne venivano rappresentate in posa, la pittrice in posa a dipingere con un abito assurdo che non permetteva neanche di bere un caffè. Erano donne in posa generalmente rappresentate. Questa è una vera lettrice, una donna che si sta rilassando nel divano di casa sua, con un atteggiamento molto sicuro di sé, molto autocosciente. Un po' ci ricorda l'Olimpia di Manet e anche se sono due soggetti diversi, l'Olimpia è una prostituta, lei è una donna semplicissima che legge, che ha una cultura, un intellettuale. E questa è un'immagine che è passata nei secoli come simbolo della femminilità, della rivoluzione e dell'emancipazione femminile. Amedeo Modigliani questi nudi molto erotici, questa è la sua Jeanne, il nudo rosa, forse la sua opera più famosa, del 1917. Cambia ancora la posizione del nudo. Abbiamo visto come si era leggermente alzata la maia di Goya, ormai cent'anni prima. Qua il pittore è proprio sopra di lei, è un nudo erotico, reale, c'è il pube realizzato coi peli, c'è un seno prosperoso. C'è una posa che ci fa capire che c'è una relazione tra il pittore e la modella, perché lui è sopra di lei, quindi c'è un legame ancora più intimo col soggetto, ma ha gli occhi chiusi. Perché lui rappresentava le donne e la sua donna Jeanne con gli occhi chiusi, perché diceva aprirò, ti realizzerò, ti rappresenterò con gli occhi aperti solo quando avrò veramente scoperto la tua anima. E anche perché i volti di Modigliani si rifacevano all'arte africana, alle maschere africane. Infatti Modigliani è già all'inizio del Novecento, se guardate la data, 1917. Modigliani sarà un artista del Novecento, ma non farà parte di nessuna avanguardia. Era toscano, livornese mi sembra in particolare, e se n'era andato dalla Toscana, aveva avuto una formazione dei macchiaioli, e se n'era andato a Parigi, ma senza un soldo, ebbe una vita terrificante. Iniziò come scultore, ma aveva problemi di tubercolosi, insomma, quindi non poteva lavorare le polveri della scultura, e quindi decise poi di darse la pittura, anche perché era povero, e il materiale per la scultura costava molto di più, le tele molto di meno. Viste da Bohemian, a Parigi lo chiamavano il Bohemian Italian, bellissimo ragazzo, una vita molto triste. La sua Jeanne lui morirà, lei si suiciderà incinta con una figlia nata, quindi una storia d'amore straziante, dolorosissima, ma una storia anche di vita, di vita forte, di vita d'arte, di vita d'amore passionale, e in questo caso lo vediamo come rappresenta la sua amata Jeanne. Ecco poi quest'opera, quest'opera che è il simbolo in realtà dell'Italia. 1901, il quarto stato di Pellizzo da Volpeto. Quel quarto stato che cerca di prendere, non dico potere, ma una presenza. Ricerca di essere presente, di essere riconoscibile e riconosciuto nella storia, con i suoi diritti, con la sua realtà, con la sua camminata forte, vigorosa, lenta, rispettosa, ma costante. Un richiamo tradizionale a Raffaello, alla scuola di Atene, una pittura che si ispira ai divisionisti, uno studio attentissimo, pensate che Pellizzo lavorò a quest'opera per dieci anni. Ci sono tre versioni di quest'opera, gli ambasciatori della fame, la fiumana e il quarto stato. La fiumana si trova alla Pinacoteca di Brera, a Milano, e il quarto stato adesso è posto al Museo del Novecento, sempre a Milano. È la storia quest'opera, non fu compresa al momento, Pellizzo si suicidò, proprio perché in questo concorso non visse la sua opera, ma perché non per egocentrismo. Lui soffrì tantissimo, proprio perché si rese conto che non capirono il ruolo sociale, umano di quest'opera, al di là della tecnica. Ci lavorò dieci anni perché ogni dettaglio, guardate anche i richiami delle pose, che sono tutti richiami all'ultima scena di Leonardo, ogni dettaglio racconta una parte del mondo umano che doveva entrare nella storia. Bernardo Bertolucci nel suo film Novecento inizierà proprio questo suo capolavoro dedicando i titoli iniziali all'opera di Pellizzo perché in effetti è il simbolo del nuovo secolo e sarà proprio un italiano, è stato un italiano raccontare questo nuovo secolo che sarà fatto di rivoluzioni e di battaglia alla ricerca dei propri diritti. Ma la rivoluzione sociale avviene in Italia ad esempio con Pellizza, con il quarto stato, con quello che poi avverrà nel Novecento, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutti i grandi stravolgimenti, la rivoluzione russa del 1917, ci sono degli stravolgimenti nel nuovo secolo e questo avviene anche nell'arte. Come vi ho detto, torniamo a Parigi nel 1906, c'è un artista lì, giovanissimo, che si chiama Pablo Picasso. Pablo Picasso è a Parigi e vede questa retrospettiva di Cézanne, dedicata a Cézanne, vede le bagnanti di Cézanne e anche lui si ossessiona. Vede come Cézanne ripete infinitamente alcuni soggetti, alcuni elementi, vede come studia l'essenza delle cose, vede come un soggetto tradizionale e lui lo sa trasformare in qualcosa di ormai futuristico, rivoluzionario, distaccato ormai definitivamente dal reale. Riconosciamo le figure ma non c'è quasi più niente di reale. E nel 1907 nasce la nuova arte, nascono le avanguardie storiche, le prime avanguardie storiche, con quest'opera, che sono le Demoiselles d'Avignon, le Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso. Quest'opera oggi si trova al MoMA di New York ed è un'opera ovviamente rivoluzionaria. Avviene quello che vi ho detto prima, non c'è più la ricerca della realtà, non si vuole più rappresentare qualcosa di realistico. La figura si comprende ma non è assolutamente un richiamo al reale. Il soggetto erotico, affascinante, bello, attraente per eccellenza, che erano le bagnanti, le grandi bagnanti, le donne nude che si asciugano al bagno, diventa in realtà un soggetto brutto, orrendo. Sono metri e metri di opera d'arte, di un colore rosa, carne, che racconta delle modelle, delle donne in realtà, delle prostitute in un bordello, in posa, ma assolutamente cubi. Oggetti geometrici, volti che sono maschere, maschere africane, un richiamo all'arte africana. Basquiat dirà che quest'opera, lui vedeva in Picasso, baschi artist, street artist del novecento, del 1960-80, amava follemente Picasso, come amava follemente Manet, tanto da dedicargli delle opere, citarli, insomma, in alcune opere, però diceva, cavolo, perché gli artisti del novecento hanno raccontato l'Africa sempre con lo sguardo europeista, lo sguardo occidentale, lo sguardo francese? L'Africa non vuol dire prendere delle maschere e metterle sul soggetto tradizionale occidentale. Se tu mi fai delle donne in un postribolo, in un bordello e ci metti delle maschere africane, non stai raccontando l'Africa. Infatti Basquiat lo farà in un'altra maniera. Però è comunque un richiamo a delle nuove arti, è un'opera che apre la strada a quello che sarà il novecento, a quello che sarà la nuova verità, la nuova arte del secolo breve, del secolo della globalizzazione, del secolo del mondo più piccolo, delle altre culture che diventano unite o distanti, però più unite, più collegate. Anche qui c'è una natura morta in primo piano, una natura morte viva, in primo piano, che richiama la natura morta di Manet nella sua Déjeuner sull'herbe, di cui avevo parlato, che era come una firma per l'artista, come dire io sono accademico, io sono capace di realizzare un'arte tradizionale accademica, ma l'arturma deve andare oltre, deve disturbare. E questa natura morte è presente anche qui, in Picasso, e lì, in primo piano, e come accitare Manet, e come accitare quell'arte accademica che ormai però non esiste più. Bisogna andare oltre, c'è la fotografia, c'è il cinema, bisogna portare il movimento nella realtà, bisogna portare nell'arte, bisogna portare altro nell'arte, bisogna ispirarsi al mondo dei bambini e alle altre culture, alle culture primordiali, come ne chiamerà Keith Haring. Tutto questo è la nuova arte, tutto questo sarà il novecento, con le prime avanguardie storiche, con l'arte fra le due guerre, De Chirico, Carrà, Morandi, con l'arte dopo la seconda guerra mondiale, Lucio Fontana, il boom economico, l'arte povera, o l'arte, ad esempio, in America, l'arte in America della seconda dopoguerra, Jackson Pollock, il dripping. L'arte diventerà arte performativa, diventerà land art, nel novecento l'arte avrà tutte le forme, tutti i modi di gestirsi, di esprimersi, perché non basterà più il cavalletto. Il cavalletto ormai è un'arte tradizionale, dopo la seconda credita d'arte l'arte è linata e si è espressa con i grandi geni del novecento e che ancora oggi ci ispirano in qualche modo anche nell'arte contemporanea, pensate alla street art anche. Abbiamo terminato così questo percorso, ne inizieremo spero tanti altri di arte, di cultura, perché da qui inizia un'altra storia, inizia l'arte del novecento, inizia l'arte che c'è più vicina, che vediamo, che è difficile da comprendere, però è importante vedere e capire che tutto in realtà è nato nella fine dell'ottocento, è nato in questo secolo, nell'ottocento, che come avete visto in questo viaggio è stato un secolo pazzesco, pieno di rivoluzioni. E forse adesso capita ancora di più quello che vi dicevo, romanticismo non vuol dire cuoricini nell'ottocento, ma vuol dire proprio ribelli, ribellioni, rivoluzioni di ogni tipo, sociali, politiche, pittoriche, scultore, artistiche, tecnologiche, la nascita della fotografia, la nascita del cinema. È famoso l'aneddoto che racconta come gli spettatori alla prima proiezione dei fratelli Lumière, del treno che arriva in stazione, scapparono dalla sala cinematografica, perché non riuscivano più a gestire la differenza fra realtà e finzione. È interessante immaginarsi di vivere in quell'epoca, come cambiavano tutte le cose, per noi oggi il cinema è normale, all'epoca queste rivoluzioni cambiarono tutto e cambiarono ovviamente anche l'arte, la storia dell'arte. Sono contenta di avervi raccontato questa lezione, se avete domande scrivetemi e spero così ci siamo tenuti ancora più in compagnia e spero di sentirvi e quando volete fatevi sentire, scrivetemi, mandatemi messaggi, telefonate, quello che volete. Grazie a tutti, alla prossima, un bacio enorme, ciao!